Buonasera, la gestione da parte dei comuni e degli operatori privati delle spiagge libere attrezzate è stata al centro di una riunione che si è svolta a Genova nella sede della regione Liguria. L'obiettivo è quello di giungere ad una semplificazione burocratica delle norme che disciplinano questa realtà. Vediamo. Quello che il mondo economico chiede con grande esigenza è una semplificazione burocratica, tra tutti i lacci e lacciuoli che in Italia sembrano ostacolare l'impresa più che agevolarla e garantirla. Questa semplificazione sembra che possa arrivare per quel che riguarda la gestione da parte dei comuni e degli operatori privati delle spiagge libere e attrezzate. In Liguria sono una sessantina tra Ventimiglia e Sarzana, mediamente una per comune, con qualche eccezione come Sanremo che ai turisti residenti ne offre ben 15, mentre Santa Margherita Ligure e lo hanno 5 e finale Ligure al Benga 4. Orientata verso questa semplificazione delle norme che regolano questa realtà è la regione Liguria che ha svolto un'apposita riunione con i comuni, i concessionari, i gestori delle spiagge libere e attrezzate, le associazioni di categoria di questo settore balneare turistico. Con la semplificazione la regione Liguria varierà anche regole certe e chiare che potranno essere applicate, come ha spiegato l'assessore regionale Aldemagno, Gabriele Cascino, in modo univoco in tutto il territorio per agevolare i comuni nella gestione delle spiagge e i controlli, favorendo quindi l'attività quotidiana di chi vi lavora. L'incontro è stato il primo step di un percorso condiviso per accogliere e valutare le osservazioni dei gestori, per far sì che anche le spiagge libere e attrezzate diventino sempre di più parte integrante dell'offerta turistica Ligure. Si chiama Trentin Riviera ed è un progetto innovativo ideato per la promozione e la valorizzazione di un territorio che vuole incuriosire e coinvolgere il pubblico attraverso eventi di contaminazione e scambio con realtà regionali e geograficamente distanti, ma tra loro complementari ed affini. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Savona e a parlarcene è stato il presidente Angelo Vaccarezza. Presidente Vaccarezza, adesso la provincia di Savona punta al Trentino, che tipo di iniziativa è questa? Un'iniziativa di gemellaggio con delle strutture trentine, sicuramente una terra che nel fare turismo qualcosa ci insegna, ma soprattutto è un incontro tra i nostri operatori, i nostri operatori che sono andati in Trentino, gli operatori trentini che lunedì, martedì e mercoledì saranno ospiti delle nostre strutture, di una sfida di prodotti e di accoglienza rigorosamente seguita sui social network. La forza di questa operazione è quella di utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione, Facebook ma soprattutto Twitter, per promuovere il nostro prodotto. Un modo diverso di vivere la Liguria, la Liguria è percepita fuori dai nostri confini come una terra per anziani che offre poco, la famosa torta di riso di Balbontin, riottosa nell'ospitalità e quasi che il turista che arriva ci dia fastidio, farebbe prima a bonificare i denari stando a casa sua, questo qua è il turista ideale. Vogliamo dare un'immagine diversa, di una terra d'accoglienza, di una terra che sa essere dell'ospitalità e soprattutto delle opportunità che da noi ci sono davvero. Noi non forzeremo la vacanza dei nostri amici trentini, gli faremo fare cose che da noi si fanno davvero, si gira i nostri centri storici che sono anche attrezzati per conoscere la storia che vi è passata, si vive nei nostri agriturismi, si fa il giro in mountain bike sulle manie, si va in spiaggia e si vive la spiaggia tutto l'anno che quando non fa la balneazione fa l'elioterapia. Si dimostra quello che è il nostro prodotto, che è un prodotto per tutti, è un prodotto per famiglie, è anche un prodotto per giovani e spesso non è conosciuto. Insomma nasce un gemellaggio che può portare lontano, seguito in tempo reale a questo punto attraverso i blogger. Sì, non è la prima iniziativa, ne abbiamo appena fatta una di nuovo seguita da dieci blogger sulle strade del pesto e abbiamo insegnato a dieci blogger italiani che sono venuti da tutte le parti d'Italia come si faceva il pesto e abbiamo fatto fare un corso e attraverso i social network abbiamo raccontato questo prodotto così semplice ma così meraviglioso della nostra cucina che ha però negli ingredienti che non possono essere copiati da un'altra parte ma solo provenire da dove vengono esattamente, specie di basilico, da dove viene esattamente coltivato per poter rendere il pesto quella meravigliosità che è e abbiamo visto che incredibile è successo, abbiamo avuto su Twitter. Noi abbiamo un buon prodotto, dobbiamo imparare che questo prodotto non può più essere dato per scontato, è vero Milano e Torino sono vicine, ci vuole sempre pochi chilometri per arrivare qua ma con gli stessi soldi con cui si viene qua si fanno tanti chilometri e si va in mente molto ambite. Dobbiamo dare delle motivazioni, la vacanza un tempo era di destinazione, oggi la vacanza è di motivazione, se i turisti non sono motivati, i turisti non vengono. E ha preso il via stamane ad Andorre e proseguirà anche domani, finale 19, la rassegna sale e pesce dedicati ai prodotti del mare e della terra in svolgimento nel porto turistico andorese. Anche domani quindi il pubblico potrà visitare il mercato del pesce e le aree espositive, i particolari dall'assessore alle manifestazioni Marisa Castiglia e dal sindaco Franco Flores. Sale e pesce, grande manifestazione a livello turistico e non solo, anche alimentare qui ad Andorre, siamo con l'assessore alle manifestazioni Marisa Castiglia. Assessore, è questa come dicevo una grande manifestazione, una grande iniziativa a livello turistico. Siamo arrivati alla nona edizione, qual è la ricetta vincente per arrivare fino qui? Devo dire che c'è molto lavoro dietro, è un evento cui abbiamo puntato moltissimo negli anni, abbiamo investito molte risorse e devo dire che la risposta c'è stata perché negli anni sono aumentati sia gli espositori sia comunque i turisti. Non so se c'è una ricetta vincente, è il momento in cui le persone sono molto più attente e quindi il fatto, non so, di fare questi eventi dove ci sono tutte le specialità, chiamiamole così, tutte le eccellenze dei vari territori a livello alimentare, insomma è importante, alla gente piace. Poi noi in questo caso che sale e pesce e quindi abbiamo sia i prodotti ittici che i prodotti della terra diciamo e niente, io vedo che comunque tutti gli anni i frequentatori aumentano. Quest'anno il tempo si è messo un pochino per traverso diciamo, però confidiamo che venga il sole insomma. Quindi sale e pesce non sente la crisi, gli stand sono aumentati rispetto agli altri anni? Sì, aumentano di anno in anno perché comunque la gente, cioè proprio questi, perché sono tutti produttori sia locali sia a livello regionale, sia ci sono alcuni che arrivano dalla Puglia e sono tutti prodotti di eccellenza e quindi a mio avviso questa è una bellissima vetrina sia per vendere sia per farsi conoscere, insomma. Poi quest'anno abbiamo un pochino improntato la manifestazione sulla presentazione della Valmerula che è comunque un marchio che in qualche modo ricopre tutto quelli che sono i prodotti del nostro territorio e in più abbiamo cercato nella Valmerula di inserire quelli che possono essere gli sport alternativi, cioè tutto quello che può essere l'entroterra. Franco Floris, sindaco di Andorra e presidente del Lanci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, siamo qui alla nona edizione di Sale e Pesce che è diventata un po' anche un simbolo per Andorra che è stato uno dei primi comuni ad avere proprio un suo mercato del pesce. Protagonisti, prodotti ittici ma non solo? No, è il connubio tra il mare e la terra, no? Uno, ci immaginiamo il turista che entra nel nostro porto, vede il nostro mercato del pesce, conosce i nostri servizi, lo ricordo è un porto comunale, il nostro è uno dei pochi ancora rimasti e poi gli presentiamo il nostro entroterra con i prodotti ittici, il nostro olio, le olive taggiasche, insomma i nostri prodotti dal basilico, il pesto e senza dimenticare i nostri ristoranti che offrono sempre dei piatti tipici a un prezzo abbordabile. Questo è importante, dunque il mare e la terra è un connubio dove Andorra sta lì, sta al centro di questa storia, è una storia nata tanti anni fa e credo che sia giusto rilanciare e rimettere in gioco alcuni temi. Uno che secondo noi è fondamentale, il numero uno è il turismo, il turismo inteso non solo quello balneare ma il turismo a 360 gradi, quello per tutto l'anno, noi ci vogliamo lavorare, ci vogliamo scommettere insieme agli imprenditori perché da soli non possiamo fare queste cose, con una regia anche nazionale, insomma crediamo che il turismo sia l'elemento fondante di questo paese, noi ce lo dimentichiamo molte volte, è come avere una bellissima macchina in moto in garage che non parte mai, ecco il turismo in Italia ho paura che non sia ancora partito, dunque noi dobbiamo lavorare in questo senso tutti insieme in sinergia per far sì che questa grande opportunità venga sfruttata, lei pensi che un 2% in più di affluenza turistica all'anno porterebbero a 500 mila posti di lavoro in più, dunque credo che sia un fatto molto ma molto importante da sottolineare e mettere in modo positivo, poi non dimentichiamo che noi abbiamo una piana agricola molto importante, la seconda in Liguria per estensione, per capacità, per addetti, siamo i primi produttori di basilico e dunque sono le due economie, turismo e agricoltura che per noi sono fondamentali per il futuro di Andorra ma non solo di Andorra ma per tutta l'Italia. E Alberto Bellotti, assessore provinciale al turismo, lancia una proposta per una più concreta promozione dei nostri prodotti tipici locali coinvolgendo anche i ristoranti. Vediamo. È quello di creare, di garantire sul territorio la presenza di ristoranti, di osterie, trattorie e qualcosa del genere che aderendo a un disciplinare che potrebbe ad esempio realizzare questo insieme, questo pool di soggetti, garantire la possibilità per ogni turista che viene a trovarci sul territorio di poter apprezzare quanto meno parte dei piatti tipici della nostra provincia, accompagnati e lavorati, effettuati proprio come base con le materie prime tipiche di questa provincia. Io credo che questo già di per sé potesse essere realizzato determinerebbe un incremento notevole di quelle che sono le produzioni, dal vino, dall'olio all'aglio piuttosto che al fagiolo piuttosto che a altri prodotti perché si innesca un meccanismo poi virtuoso per cui allora arriva il vero interesse a proseguire su questa strada. Un interesse che oggi viene coltivato da qualche azienda, da un numero considerevole anche di aziende che però operano, diciamo così, tra virgolette anche per se stesse. Fino a ieri hanno fatto così, oggi no, oggi abbiamo avuto l'esempio di partecipazione di soggetti anche appartenenti al commercio, alla ristorazione, che hanno intenzione, lo hanno dimostrato fino adesso, lo vogliono continuare a dimostrare, di condividere un progetto unitario. Ebbè io credo che l'amministrazione provinciale, io in particolare, non possiamo disattendere questa aspettativa, dobbiamo esserne seri, serissimi, doverosamente garanti di un pari trattamento ovviamente tra loro ma soprattutto di dargli dei risultati. Un ultimo accenno, tanto per dire un'idea che ho da tempo, potrebbe essere quella, e che non necessita di grandi investimenti, quella di mantenere da parte degli uffici provinciali il calendario delle manifestazioni della provincia. Mi sembra impossibile che ancora oggi si veda due comuni confinanti, magari anche vicini a un paio di chilometri, che organizzano due feste allo stesso giorno, alla stessa ora e magari anche dalla stessa specie. Almeno a quello potrebbe servire. Poi potrebbe servire sicuramente per avere intanto il quadro della situazione da parte dell'amministrazione provinciale e consentire non solo al turista che va a visitare i nostri siti, ma anche agli operatori del settore, parlo dei ristoratori, parlo degli albergatori, di chiunque, di avere delle notizie importanti e fresche da poter in qualche modo trasmettere al turista che ne ha necessità. E credo che questo potrebbe essere un altro piccolo passo avanti. Oggi e domani si svolge una simulazione di terremoto alla Pigna di Sanremo. Si tratta di una maxi esercitazione di protezione civile che vede impegnate 22 associazioni di volontariato per un totale di 130 volontari. Servizio. Questa mattina il Centro Storico di Sanremo è stato interessato da un violento terremoto. Così sono state attivate una serie di misure analizzate precedentemente per limitare le drammatiche conseguenze. In quest'ultima simulazione il Comune di Sanremo con il coordinamento della Prefettura e la collaborazione dei Vigili del Fuoco del Servizio 118 dell'amministrazione provinciale della Regione Liguria ha organizzato un'esercitazione cui vi stanno partecipando le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, il comitato di quartiere La Pigna con il contributo del Cespi. L'esercitazione ha luogo in corso Trento Trieste con il coinvolgimento di circa 150 volontari di protezione civile, l'intervento di personale proveniente da altre regioni, enti e istituzioni con i relativi mezzi di locomozione. L'aria è stata trasformata in un vero e proprio campo di emergenza a cui affluiscono gli abitanti evacuati dalla zona Giardini Elena della Pigna, allo scopo di attivare tutte le operazioni di soccorso necessarie in caso di evento sismico. Domani, dopo le verifiche, la zona verrà aperta al pubblico. L'iniziativa ha lo scopo di creare un'occasione d'incontro per illustrare l'organizzazione del sistema della protezione civile e favorire la collaborazione tra operatori appartenenti al volontariato e alle diverse componenti istituzionali. In particolare, l'esercitazione mira a verificare le problematiche di attivazione e gestione del sistema di soccorso locale su un evento sismico nel comune di Sanremo. Verranno quindi valutati gli aspetti relativi all'attivazione, movimentazione e gestione del volontariato e delle risorse locali, il flusso delle comunicazioni, l'efficacia delle procedure previste nel piano di protezione civile comunale. La cronaca, un marinaio di 52 anni di origine russa imbarcato su una nave ormeggiata ad imperio è stato tratto in arresto con l'accusa di violenza sessuale e i danni di una poliziotta. Il fatto è accaduto in calata a Cuneo, l'uomo si sarebbe avvicinato a due poliziotti in borghese che in quel momento si trovavano all'esterno di un ristorante e con la scusa di farsi accendere una sigaretta si sarebbe avventato su una delle due. Come se non bastasse, il marinaio avrebbe rivolto le sue attenzioni anche alla titolare del ristorante chiedendo prestazioni sessuali a pagamento. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e ora si trova nel carcere l'imperia. Serge Ferranti, il 23enne francese che solo due giorni fa era stato arrestato e poi rimesso in libertà dopo che armato di accetta aveva tentato di rubare nel ristorante di uno stabilimento baneare di Ventimiglia è finito di nuovo nei guai. Stavolta le manette sono scattate intorno ai posti del transalpino quando la proprietaria di un ristorante su lungomare della città di Confine ha chiamato il 112 per un cliente insolvente e che peraltro stava tentando di portarsi via un coltello del servizio. Sul posto si sono portati i carrivenieri di pigna insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Ventimiglia che sono trovati con stupore davanti al francese. Il 23enne aveva appena consumato l'autopasto ma non voleva saperne di pagare e così è stato denunciato mentre per il furto del coltello è nuovamente finito in stato di arresto. Stamani il giudice del Tribunale di Sanremo ha convalidato l'arresto e disposto alla misura cautelare nel carcere di Valle Armea. Cambiamo argomento, si svolge in questi giorni a Villa Ormonda Sanremo un corso sul diritto umanitario con partecipanti provenienti dalla Libia, Iraq e Sudan. Prima da questi paesi che versano in situazioni di precaria stabilità e conflitto interno con gravi violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani provengono alla maggior parte dei partecipanti che hanno preso parte all'apertura del corso internazionale sul diritto umanitario in programma presso la sede dell'Istituto Sarremese fino al 24 maggio. Tra i circa 50 partecipanti appresenta una consistente delegazione di ufficiali e funzionari provenienti dalla Libia e dal Sudan del Sud. Prendono parte inoltre ufficiali e funzionari governativi provenienti da paesi di lingua araba come Egitto, Emirati Arabe Uniti, Iraq, Qatar e dall'autorità palestinesi. Al corso che tratta le questioni più delicate e controverse relativamente all'utilizzo della forza armata e alla protezione dei civili nei conflitti partecipano inoltre ufficiali, consiglieri giuridici ed esperti provenienti anche da diversi paesi europei. Ma noi facciamo una breve pausa, come sempre ci sentiamo subito dopo. Domani nella chiesa parrocchiale di Piani d'Imperia si tratta il penultimo appuntamento della rassegna Piani musicali. I nostri microfoni il parroco Don Antonello Dani e il direttore artistico Cristian Lavernier. Don Antonello Dani qui nel santuario dell'assunto di Piani d'Imperia torneranno a risuonare le note di Piani musicali. L'appuntamento è per domani sera. Sì, siamo al terzo appuntamento di Piani musicali, anche il penultimo purtroppo. Anche quest'anno abbiamo avuto la gioia e l'onore di ospitare artisti internazionali, tutti i grandi maestri di chitarra, grazie soprattutto all'impegno del direttore artistico Cristian Lavernier, che sempre si impegna a portare qui nel santuario persone provenienti dalle più svariate parti del mondo. È sicuramente un bel appuntamento. Nel corso degli anni, siamo al dodicesimo anno, è aumentato il numero delle persone che vengono ad ascoltare questi concerti ed è particolarmente piacevole vedere che all'interno di una chiesa, all'interno di questo santuario che è dedicato alla Madonna, si possa ascoltare della buona musica perché sicuramente anche la musica eleva lo spirito e ci porta verso Dio. E allora sentiamo dal direttore artistico il programma di questa penultima serata. Sì, domani sera avremo l'onore di ospitare qui due grandissimi chitarristi che sono Victor Pellegrini, il maestro Victor Pellegrini e Daniel Olmos, rispettivamente Argentina e Messico e appunto il maestro Victor Pellegrini ha in Svizzera un concorso internazionale che porta il suo nome, quindi noi siamo onorati di averlo qui domani sera. C'era un programma molto variato che partirà dalle note di Bach, da una trascrizione curata proprio da lui, fino ad arrivare alla musica del latino Centro America e sicuramente è una buonissima occasione per ascoltare uno dei migliori chitarristi che in questo momento esiste al mondo. L'appuntamento è alle 21, l'ingresso è gratuito e quindi insomma tutti invitati a questo grandissimo concerto di domenica. Presso il comando militare esercito Liguria, il colonnello Alfonso Lafranca, capo di Stato Maggiore ed Aldo Emanuelli, amministratore unico della Nord-Ovest Union Security, hanno firmato una convenzione operativa per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito. La convenzione prevede uno scambio di dati tra le due parti e rappresenta la volontà delle forze armate a seguire professionalmente il proprio personale, anche congedato, attraverso corsi di formazione, selezione attitudinale e convenzioni volte a incrementare il ventaglio di possibilità per un utile ricollocamento al lavoro. Il parco costiero del ponente Ligure è stato teatro durante lo scorso fine settimana di una visita da parte di una trentina di soci di un Rotary francese. L'iniziativa organizzata da Rotary Club Imperia, infatti ha avuto l'obiettivo di presentare agli ospiti alcune delle principali bellezze e attrattive turistiche locali. Non poteva quindi mancare la pista ciclabile, dove nella giornata di domenica i soci francesi, insieme ad amici italiani, hanno percorsi in bicicletta al tratto compreso tra Sanremo e D'Arma di Taggia. Alla giornata ha partecipato il presidente di Area 24, Giuseppe Argyro. Domani alle 16, nel Centro Culturale Polivalente di Piazza Duomo ad Imperia, si darà un concerto degli allievi delle classi di canto del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna lirica giovane, giunta la 22esima edizione. Il concerto di domani sarà un omaggio a Giuseppe Verdi. E torna domenica a Molini, domani a Molini di Prela, il Mercatino delle Meraviglie, in programma oltre ai tradizionali banchetti con antichità e curiosità, anche uno spazio espositivo riservato più piccoli, una mostra d'arte di Anna Salomon, musica popolare e la presentazione di un libro di poesia di Antonio Ascheri. Per ora ci occupiamo dei cantieri sull'autostrada dei Fiori a partire da lunedì della prossima settimana del quadro meteo. Questi cantieri sul tratto della 10 di competenza Savona, confine di Stato, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 20 a domenica 26 maggio. In direzione Francia, careggiata Nord, tra Savone e Sputorno, riduzione di careggiata per bonifica alla pavimentazione, da lunedì a martedì anche notturno. Tra Figlino e finale Ligure, riduzione della careggiata per rifascimento e degiunta al viadotto Porra, da lunedì a venerdì anche notturno, con chiusura parziale dello svincolo di finale Ligure, martedì e mercoledì. Tra Albenghe d'Andorra, riduzione di careggiata per rifascimento della pavimentazione, giovedì e venerdì anche notturno. E riduzione di careggiata per ampliamento della TV a circuito chiuso nella galleria Brick a Picella, da lunedì a mercoledì. Tra San Bartolomeo al Mare ed Imperia Est, riduzione di careggiata per l'installazione dei pannelli fonoassorbenti e adeguamento alle barriere di sicurezza, da martedì a domenica anche notturno. Tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, riduzione di careggiata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto San Lorenzo, da lunedì a domenica anche notturno. Da lunedì a venerdì, tra Andorra e Bordighera, sarà presente un cantiere mobile per lo sfalcio delle erbe che opererà sulla corsia di marcia. In direzione Genova, careggiata sud, tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest, riduzione di careggiata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto San Lorenzo, da lunedì a domenica anche notturno. Tra San Bartolomeo al Mare ed Andorra, riduzione di careggiata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza e mitigazione acustica al viadotto Rinnovo. Da lunedì a domenica anche notturno. Tra Andorra ed Albenga, riduzione di careggiata per l'installazione della tv a circuito chiuso in Galleria Bricca Picella. Da lunedì a mercoledì, tra Finale Ligure e Feglino, careggiata a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta. Martedì e mercoledì anche notturno con chiusura parziale allo svincolo di Finale Ligure. Da lunedì a venerdì, tra Bordigheri ed Andorra, sarà presente un cantiere mobile per lo sfalcio delle erbe che opererà sulla corsia di marcia. Con il quadro metodo elaborato da Arpal, metodo Liguria, vediamo le previsioni per domani, domenica 19 maggio. La perturbazione si sposta sui Balcani. A Ponente si prevede spiccata variabilità, con nubi alternate schiarite anche ampie nel pomeriggio. Cielo grigio e deboli piogge residui allevanti in esaurimento solo la sera. Non si escludono isolati rovescio temporali residui, soprattutto nella prima parte della giornata. Umidità su valori alti, venti da sud ovest moderati o a tratti forti. Il mare è molto mosso e localmente agitato. La protezione civile segnala piogge diffuse con cumulata significativa a Levante e possibili temporali o rovesci residui anche forti, mare localmente agitato sotto costa. Per lunedì 20 maggio prevede giornata soleggiata a Ponente, almeno sulle coste, mentre nell'interno il sole sarà offuscato da temporanei addensamenti anche associati a piovaschi nel pomeriggio. A Levante prevarranno le nuvole che lasceranno spazio a brevi schiariti in riviera. Non mancheranno deboli piogge sparsi. Umidità su valori medio-alti, venti da sud-sud-ovest deboli o moderati, mare molto mosso, in calo, nessuna segnalazione di protezione civile. E quindi in mezzo chiudiamo anche il nostro giornale. L'appuntamento come sembra alle prossime edizioni sul nostro sito imperiatv.it. Grazie ancora dell'ascolta. A tutti voi una buona serata e una buona domenica.